Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di Mila Fanpage, sono Maximus1899 e oggi siamo qua per fare l'analisi della partita appena concursa di Lazio-Milan, finita sul risultato di 1-1. Allora, questa partita è incominciata male per i rossoneri, infatti al 45 minuto, allo scopo del 45 minuto del primo tempo, eravamo sotto per un rigore, è stato la Lazio, che secondo me non c'era, realizzata la biglia. Quindi cominciamo subito con l'analisi della partita, qua mi sono scritto alcuni appunti delle azioni. Al quattordicesimo minuto del primo tempo, occasione sprecata per Ciori Immobile, colpo di testa che finisce fuori. Liberamente Immobile ha sprecato una non-occasione per portare in vantaggio la Lazio. Poi al diciottesimo minuto, tiro al risultato di Keita, ma tranquilla la presa di Donnarumma. Presunto rigore di Immobili al ventunesimo minuto, non ha segnato la Lazio. Keita al ventiquattresimo, ci prova ancora, ma Donnarumma blocca in due tempi. Al ventisesimo minuto, occasione a fin di palo per Ciro Immobile, davvero la Lazio ha cercato più volte di andare in vantaggio e fortunatamente non ci è riuscita. Al ventottesimo, un miracolo di Donnarumma, c'è qualcosa di davvero assurdo, io un miracolo del genere non me lo sarei aspettato. Tipo a un centimetro, se non mi sbaglio, un centimetro, un metro di distanza riesce a pararla. È un mito Donnarumma, è un mito. Poi, purtroppo, al 45esimo minuto, rigore per la Lazio, di un presunto fallo di Donnarumma che fa cadere Immobile di rigore, quindi l'arito segna a calcio di rigore. Pabiglia che lo trasforma nel risultato di 1-0. Fu così che, sì, fu così. Così le squadre tornarono con risultato di 1-0 per la Lazio. Nel secondo tempo non è che ci sono state così tantissime azioni. Quelle poche che ci sono state sono state al quinto minuto, però, di una bella uscita di Donnarumma su Milinkovic e Stavic. Il rigore è legato al Milan al 22esimo minuto. Adesso che ho riviso un attimo lì all'AIDS, non è un rigore così enorme. Si poteva anche non dare, però, sai com'è? Ha dato un rigore quasi legato alla Lazio da ciò che era noi. No, eh? Poi, al 28esimo minuto... No, scusate, al 22esimo bate, salve in un mondo incredibile, da una occasione della Lazio e la mette in corner. Al 28esimo minuto, punizione di Sosa, ma... tutto tranquillo per la Stacoscia. Come si chiama Stacoscia? Le sono in mente. Al 39esimo minuto, arriva il gol di Suso che porta il Milan il risultato di 1-1. E lì, davvero, ho un lato come... non so che cosa. Quindi, ragazzi, adesso che vi ho spiegato bene la partita, adesso diciamo le mie impressioni. Allora, come ho detto all'inizio, il Milan ha incominciato male, ma poi più o meno ci siamo subietti al secondo tempo, con alcune azioni. E... niente, stiamo tutti a portare un punto a casa. E adesso, se avessimo perso la rincorsa per l'Europa, sarebbe stata molto difficile. Adesso speriamo che i risultati vengono contro la Fiorentina e il Chievo, e poi, purtroppo, ci sarà la Juventus. Speriamo di una vincita, ma la vedo difficile. Comunque, ragazzi, non c'è n'altro da dire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Passate un bel piaccio in su, comitati e iscrivetevi, e mi raccomando, sempre, forza mina. Nella gioia e nel dolore, forza diavoli. Ciao, ragazzi.